Ciao, t'ancredi giusto? Ehi, sì Sono un fotografo Vado in giro per Milano a fare foto a persone, vabbè, sconosciute, tu non sei sconosciuto Però ti ritengo anche interessanti, hai visto molto bene oggi Ti va se ti faccio due scatti Volentieri, volentieri Va bene Dimmi, dimmi te dove facciamolo La spostiamo magari un po' di là Va bene Grazie a vedere il ruolo Belle L'ultima cosa che sono solito chiedere se mi fai vedere l'ultima foto che hai scattato tu col tuo telefono La foto ho questa che era la luce del concerto di The Weeknd Invece video è la ragazzola di The Weeknd Grazie mille Vado a piacere e poi le vedrò Va bene, poi ti invio tutto Ciao Ciao